Ciao ragazzi qua ZV, bentornati sul mio canale, quest'oggi siamo qui per andare allo stadio, stadio olimpico Italia-Svizzera Ci stiamo andando con la Volkswagen ID4, che ringrazio tantissimo perché vi giuro è una macchina assurda Voi non potete capire la mia emozione in questo momento, penso che questi capelli qui siano già una risposta Però raga vi giuro non sono mai stato allo stadio a vedere l'Italia Poi soprattutto raga, un europeo così sentito, un'Italia che sta facendo così bene, un gruppo così affiatato E io sarò grazie a Volkswagen a fare una reaction per voi Mentre siamo fermi al semaforo io vi guardo e vi dico, raga grazie, grazie ad ogni singolo iscritto, ad ogni singola persona Che gli è capitato anche per sbaglio un video, l'ha cliccato, ha deciso di supportare il progetto e di seguirci in tutte le nostre avventure Grazie di cuore, questi traguardi non sono soltanto miei ma sono vostri E spero di poterne fare tantissimi altri, di potervi portare ovunque perché vi giuro raga siete parte della mia vita ormai Barra Ma come no, ma anche... Pallo di mano Ma pallo di mano da che? Se saltelli segnalo catelli Non è che c'è anche questo Ragazzi siamo dentro, tutto pronto Purtroppo io e Tinto ci siamo dovuti dividere perché Tinto è stato super fortunato Ha preso il biglietto VIP, l'hospitality Lui riuscirà a farvi vedere un sacco di cose che io non posso Raga sono, vi giuro, troppo carico Ok raga sono ufficialmente dentro Mi hanno provato ancora il biglietto per tipo la decima volta Adesso andiamo al buffet dei VIP Madonna raga ancora non ci credo che sto entrando veramente Potete capire la mia emozione, grazie Volkswagen per averci invitato Grazie di cuore Comunque raga oggi non sono da solo, sono con Sofia e Politi Ciao ragazzi Tu hai già visto la Turchia? Esatto Per me è la prima volta Per me è la prima volta Il pronostico? Ho detto 2 a 0 Io ho detto 2 a 0 Io esagero 3 a 0 Un altro 3 a 0? L'altra volta hai portato fortuna Quindi Sono minuciosa Senti i cori Cuore così grande Tinto che cosa stai combinando tu in questo momento? Guarda Ragazzi ho trovato qua il footwork È la mia prima partita allo stadio Sono emozionatissimo E tutto il pubblico sta già esplodendo Stanno entrando i giocatori raga Vai Gigi Vai Madonna Alla morte Vi do Vi andiamo Vamos Vamos È appena iniziata la partita Me la sto gustando anche con le caramelle che mi hanno dato Tiro Vai Gigi Fallo fallo Va bene Va bene Va bene Fuori gioco Capalli in signe Potrebbe tirare A giro A giro Una cosa sai fa Prova C'è un Forte è embolo raga Occhio Va bene Va bene Cosa stava per fare immobile se ci fosse riuscito Amma mia Tira Vai Lorenzo Ho rigore Ho rigore Ho rigore Ho rigore Come fa adesso rigore Vai Spina Mentre di testa Chiellini Stanno partendo i fischi E' partita la VAR VAR No dai Ti prego no Ti prego no VAR Ma come no Fallo di mano Ma fallo di mano da che Fallo di mano Sofi Che roba No dai Il primo gol che vedo nella mia vita Annullato No Mazza rega ma che E' roba Italia 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 Ci dobbiamo rifare assolutamente Quel gol lì Mi ha fatto perdere la voce Per nulla Ma andò vai Ma andò vai No Chiellini fuori No Non ci credo Proprio Chiello Pascia da capitano a Bonucci A Cerbi Vai Leone Si Siii Annullate C'è anche questo Finalmente Grande Mimmo Berardi Comunque ragazzi non c'è niente da fare Quest'anno siamo forti Vai Lorenzo Cosa stava per fare in signa Italia 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 Spina Zona quanto sei forte Quanto sei forte Spina Partenza di Immobile Dopo il calcio d'angolo della Svizzera Raga altro calcio d'angolo dell'Italia Sempre da parte di Insigne Ma niente Spina sei un grande Occhio a un babù Altro alcio d'angolo Stavolta parte i Pirardi Bello Sai che piedino Tagliala Tagliala Due minuti di recupero L'Italia in vantaggio 1 a 0 Cerchiamo di tenere questo risultato fino alla fine del primo tempo dai Ultimi due minuti di recupero Ripartenza della Svizzera Fine primo tempo Siamo in vantaggio Adesso andiamo a fare un piccolo break Dobbiamo fare il 2 a 0 Anche il 3 Anche il 3 Piccolo break Ci hanno offerto come prima del vino Delle limbi e così Comunque raga catering pazzesco Ci danno sempre le bevante, i cioccolati Wow fantastico Siamo qua con uno dei ragazzi che è andato a bordo campo Diciamo Com'è stato? Molto emozionante Abbiamo visto 18.000 persone Quindi molto emozionante Mi sei un grande Come ti chiami? Alessio Alessio digli di iscriversi Iscriviti al canale Dai Inizia il secondo tempo raga Svizzera parli da super Spravoca in cima Doppietta di Locatelli raga Raga è successo tutto Mentre stavo facendo tipo una storia Di Instagram Me l'ho preso Sto goal Fantastico Locatelli Che grande Se saltelli Segna Locatelli Sofì tu hai detto 3 Lei ha detto 3 Quindi arriva il terzo Bello A canci Vai Lorenzo Tira Tripletta vogliamo Loca Via sta palla Bravo Gigio No Perardi cosa ha lisciato Madò Mimmo Fa entrare Chiesa però Mancini Dai Fallo 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 Se lo dice lui E fallo Fuori Lorenzo Il tiro Utile a gire Chi preferisce Chiesa o un figlio Regà Chiesa Mo fa il terzo Forse Ciro Sta arrivando Stavano facendo il gol È regolare È regolare È regolare No Immobile Oh che hai sbagliato Madò Ah Ciro No È stata tipo la panchina Che ha tirato i calci No Ciro 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 Fallo Fallo Va bene nostra Tagliela 81esimo regà 2-0 Dobbiamo fare il terzo Dai Lo possiamo fare Il terzo Lo possiamo fare Capelli verdi A quanti like No di più A 20.000 20.000 like Capelli verdi Oh No Ma dov'è il fallo Cambi Stem Innovation Per Manuel Locatelli Riccardo Rodriguez La vedete Ciro 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 Chiamate Che gol Mazzola Aveva detto Un segno Ciro Il terzo La prossima volta Dimmi il risultato Che me la gioco E perché A questo punto Ciro Ciro Vogliamo il quarto Vogliamo Il quarto Italia 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 Madonna regà Ma quest'anno Deva stanto l'Italia Oh vi ricordo di iscrivervi Perché vi porterò Anche Italia Gallas Mi raccomando raga Fischia 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 arbitro Partita finita raga Bellissima Prima partita che vedo Nella mia vita Allo stadio All'Olimpico 3 a 0 Bellissima A casa A casa Dici ai ragazzi Che ci seguono Quanto finirà Italia Gallas Seguiteci su Instagram Che vi diciamo Il pronostico Allora Grande 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 Z Z Ha portato bene Abbiamo portato il primo Sei felice di questa Italia Vada bene Buon continuo Grande Z V Mancini ha fatto una bella squadra Giovani che hanno voglia di fare Una squadra unita Guardate il gruppo raga Stanno facendo il cerchio tutti insieme Questa è l'Italia Partita finita Adesso andiamo a trovare Anto E vediamo come l'ha passato lui Bellissimo uscire dallo stadio Vedere tutta la gente che ti fa forza Italia E canta E si diverte E balla Bellissimo Ah ma chi c'è qua Mas Guarda Tinto Te la sei goduta almeno in tribuna VIP Un botto Com'è Ti è piaciuta la partita Anto Non c'ho più la voce Tinto Ti giuro È un'emozione incredibile Non c'ho più la voce Ti giuro è stata una roba assurda Prima volta Allo stadio a vedere l'Italia In qualcosa di unico In qualcosa di Mi rimarrà per sempre E rimarrà per sempre anche a te Che te la sei vissuta In tribuna VIP Che te la sei vissuta Che te la sei vissuta